Non c'è più come parrocchio perché è per il fatto della salute e questo vino proprio non c'è più qui. Si è allontanato dalla parrocchia di Sant'Andrea Pigli per motivi di salute Don Amodio Ciardi, conosciuto come Don Amedeo. Da domenica scorsa il sacerdote non celebra più messa nella chiesa della frazione alle porte di Arezzo. Un periodo di riposo fanno sapere della diocesi come del resto ci raccontano anche in paese. Si dice che è andato via perché dicono per motivi di salute ma io domenica alla mesa non ci sono stato quindi non so niente. So per sentita dire che non c'è più però per come non lo so. Le stesse motivazioni sarebbero alla base dell'allontanamento di Don Amedeo anche dalla parrocchia di San Pietro a Salerno nel 2005. Anche se stando a quanto riportato dal quotidiano la città di Salerno potrebbero esserci anche dei problemi legati alla gestione economica della parrocchia tra le motivazioni alla base dell'allontanamento del parroco.